Musica I carabinieri del comando provinciale di Sassari nel corso dei servizi notturni di controllo della circolazione stradale, questo fine settimana a Valedoria hanno controllato 65 veicoli identificato 90 persone, denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza 4 persone, una donna 36enne di Nulvi, un 18enne di Valedoria, un 36enne di Sedini ed un 23enne di Vidalba, ritirato la patente ad un impiegato ventenne di Sassari per circolazione senza copertura assicurativa. A Porto Torres invece sono state controllate 49 auto ed identificate 65 persone. Denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebrezza due persone, un 47enne operaio di sorso e un 60enne allevatori di sorso. Per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono stati denunciati due sassaresi, un 42enne impiegato e un 18enne studente, trovati anche in possesso di 15 grammi di marijuana, tre sassaresi per guida senza patente mai conseguita, un quarantenne disoccupato e due ventenni, nonché sono state segnalate all'autorità giudiziaria due pregiudicati di sorso, sorpresi fuori dalle loro abitazioni in violazione delle misure cautelari dell'obbligo di dimora al loro imposto. I controlli della circolazione stradale, con l'ausilio dell'etilometro da parte dei carabinieri del provinciale di Sassari, si sono intensificati per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza, che spesso è causa di incidenti stradali anche gravi. A pochi giorni dal nubifraggio che si è abbattuto sulla nostra città lunedì scorso, in molti fanno la conta dei danni, in particolare i residenti di Via Virdis, nel quartiere di Lipunti. Alcune delle belle villette a schiera del signorile complesso sono state gravemente danneggiate. Ora si sa che la colpa è di alcuni tombini, all'interno dei quali, forse a causa di detriti, sporcizia e quant'altro, l'acqua non defluiva correttamente. Il risultato è evidente dalle immagini girate dagli stessi residenti la sera di lunedì. I danni sono ingenti sia agli arredi che agli infissi, ma non solo. Guardate il pavimento di questo appartamento. Le mattonelle sono saltate e in alcuni punti si sono letteralmente spaccate. I disagi quella sera sono stati parecchi, ma ancora oggi i residenti delle villette più colpite fanno la conta dei danni. Le case sono nuove, hanno circa 5 anni di vita. Un evento meteorologico straordinario è stato detto loro. È vero, ma chi paga i danni causati da una rete fognaria non manutenzionata correttamente, o forse addirittura mai manutenzionata? Per ora c'è solo un rimpallo di responsabilità. Non vogliamo accusare nessuno, dicono. Vogliamo solo che chi deve ci paghi i danni. Diverse centinaia di persone hanno partecipato a Sassari alla prima edizione di Fai Marathon, l'unica maratona che si corre con gli occhi. Evento nazionale ideato dal Fai, il Fondo Ambiente Italiano, in partnership con il Gioco dell'Otto, a sostegno della campagna di raccolta fondi. Un successo che ha superato le più rose aspettative e che ha catalizzato un pubblico numerosissimo di tutte le età, che sin dalle 10 del mattino di ieri ha affollato la postazione Fai per iscriversi alla maratona non competitiva. Una folla immensa che ha colorato il centro storico di Sassari di verde e di arancione, i colori tipici del Fai, indossando le petturine, gli zainetti e i gadget vari del fondo ricevuti dagli organizzatori al momento dell'iscrizione. Tantissimi anche i bambini a caccia di palloncini, premio dedicato ai più piccoli ad ogni tappa del percorso. Una festa allegra e colorata dunque che ha accompagnato la manifestazione, nata proprio per far riscoprire alle famiglie le piccole e grandi piazze del centro storico, dei suoi angoli più nascosti e suggestivi, spesso sconosciuti ai più. Il percorso si snodava da Piazza Santa Caterina, attraverso i vicoletti adiacenti Il Duomo, per attraversare Quadrato Frasso, anche detto Patio di Ludiauru, Pozzo di Villa, considerato il nucleo più antico della città, Via delle Muraglie, La Frumentaria, Fontana del Rosello. Lungo il tragitto è stato possibile gustare anche dei brevi concerti eseguiti da diverse formazioni dell'orchestra dell'ente concerti Maria Lisa De Carolis. In contemporanea alla passeggiata culturale si è svolta anche una camminata sportiva alla scoperta di una città da vivere ed esplorare in tutta libertà, senza il traffico e il caos dei giorni feriali. A fare da guida i numerosi sportivi che hanno partecipato all'iniziativa sono stati gli insegnanti della My Gymnica di Sassari. La giornata ha consolidato un importante traguardo nella raccolta fondi che il FAI prosegue fino al 27 ottobre. Si può contribuire alla salvaguardia del patrimonio storico e ambientale anche inviando un sms al 45592 Ricordati di salvare l'Italia. Siamo arrivati alla fine del Mondiale 3D. L'Italia ha sbancato il podio a Sassi nella piena età di Baddimanna. Davvero un grandissimo spettacolo. L'Italia si è confermata regina nella disciplina 3D ai Mondiali di Sassari. È grande stata l'emozione nel vedere i nostri atleti sollevare il tricolore sul podio. Le finale a squadra nel maschile si è in posto il terzetto della Danimarca che ha vinto la medaglia d'oro battendo l'Ungheria. Il bronzo è andato alla Spagna che ha avuto la meglio purtroppo sull'Italia. Le finali individuali invece hanno visto nel compondo maschile David Cousins, l'americano. Davvero un fenomeno che con un hand plane 44 su 44 punti a disposizione ad aver stracciato la concorrenza. La grandissima prestazione è l'Italia femminile contro le campionessi oscenti della Francia per quanto riguarda la finale a squadra femminile. Cupron, Clouse e Porte sono state battute da Giulia Barbaro, Sonia Bianchi e Cinzia Nozziglia. Questa è una grandissima soddisfazione. Ma soprattutto ci piace rimarcare il grande lavoro degli Arceri Torres e Sassari nella persona del Presidente del Comitato Organizzatore Paolo Poddige ma soprattutto dei tantissimi volontari che hanno dato veramente prova di grande professionalità e hanno guadagnato il rispetto davvero planetario per quanto riguarda l'arceria. I cinque giorni che ci hanno accompagnato in questa avventura dicono che si può allungare la stagione si possono fare tante belle cose nel nome di uno sport che secondo noi meriterebbe davvero una vetrina differente. Noi c'eravamo e siamo davvero felici di potervi presentare da qui a qualche giorno uno speciale che ripercorrerà questa grandissima prestazione non solo dell'Italia ma io dico dell'intera nostra isola. con Joe Kazak di nuovo qui in Sardegna ho letto su internet che hai una villa alle Bermuda è vero? Meglio le Bermuda o la Sardegna? in Barbados ce l'ha? ah Barbados, scusami, scusami Sardegna, sì, 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 sì. Sì, sì, villa, sì, molto bello. Sardegna, sì, è molto bello. Sardegna, Sardegna o Barbados? Sardegna, numero uno. E le donne, e le donne. E tu hai avuto una nota di efficienza anche molto importante in Inghilterra? Ah, è stato premiato. Hai detto che ti piace il modo che ti ha apprezzato e tutto ciò? Sì, molto orgoglioso. Grazie molto. Grazie a te quando sono arrivati. Come ho detto, mi piace arrivare all'isola. È fantastico e sono molto orgoglioso. Molto orgoglioso di quello che ha ottenuto e l'accoglienza che riceve sempre quando viene qui è un orgoglio per lui venire sempre qui. Oh, buon actio! Boxing è in my blood. You know, ha usato il mio sogno, ma sono ancora wino, ma sono ancora più giusto. Possessi dir come in mezzo al tuo 10 anni, ma dovrei essere world champione. Non ci sarei vissuto. Makes meativo. Il suo soprannome è il Dragone Italiano. Il Dragone Italiano che sarebbe un Dragone Gallese. I Gallesi sono simili ai Sardi? Lui si è ritirato e imbattuto a 46 incontri e gli è venuta voglia di fare il 47esimo incontro per restare imbattito ancora di più. 46 dice basta. Si è ritirato come tornare a qualche volta? Beh, a volte sono in maniera, andiamo a fare una ruota. E ora sono più vecchi, sono più vecchi e penso che non. Sveglia, dice, deve correre, questo che sta, dice, ma ho fatto già tutto, non devo fare altro. November 2007, more than 50,000 fans packed Millennium Stadium in Cardiff between Kalsaki and Mikkel Kessler. After a cautious start by both fighters, Kalsaki comes back with a left and begins to throw his arms wide and win his punches, an occasional Kalsaki habit. Big uppercut by Kessler, and another. As the fight progressed, it was Kalsaki who continued to move forward with pinpoint accuracy. Here comes Kalsaki. Beautiful world, you're boxing this fucking awesome. Down the stretch, Kalsaki's quickness was too much for the gutty Kessler to overcome. Kalsaki the winner, by decisive unanimous decision. And what do you think of the teammates that leave and then return? What do you think about the boxers that actually retire and then come back in the ring and stuff like that? Yeah, it's a pity, you know, because so many great fighters like Muhammad Ali and Avanda Holyfield, who I love, they retire, even Sugar Ray Leonard, they come back and get beat, you know, that's inevitable. But unfortunately, I didn't want to become one of them fighters, I want to be a special few that retire at the top and stay retired. He says, I've seen many people, like Muhammad Ali, who were retired, then they were in the ring and lost. He says, he doesn't have anything to try or justify with anyone. I wake up in the morning, I've done what I've done and I've closed the box. Even the money can be a mistake. He said even the money, can I bring you back in the game? Well, the problem is, the problem is, if I was in Floyd Mayweather or Manny Pacquiao's weight, this baby might be different, but at the moment they can't write enough zeroes on the head of the check. He says, if forse to go with Pacquiao, Mayweather, Mayweather, he says, yes, then forse I'll be tempted. He says, no, no, he says, certainly no, certainly no. He's done what he has to do now and he's happy with that. Okay, thank you, Joe Calzaghe. Good luck. Thank you very much. Thank you. Salve e ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con la Tele-G in radio, 26.11.50 al nostro recapito telefonico, www.telegi.tv invece il nostro sito per poterci vedere tutti i giorni da tutte le parti del mondo. Abbiamo avuto ospite nei giorni scorsi il dottor Alessandro Basso, il presidente appunto nazionale del gruppo Far Express. Oggi abbiamo invece il referente di Sassari perché questa settimana diciamo che Sassari conoscerà questo nuovo servizio. Allora facciamo un breve riepilogo di quello che è la vostra attività. Far Express è un progetto nazionale, un'iniziativa del dottor Alessandro Basso che ha come dire individuato un'area in cui il servizio sanitario nazionale era un po' carente ed è quell'ambito in cui tutte le persone che hanno delle difficoltà a raggiungere i servizi sanitari possono rivolgersi a una figura di riferimento che è la Far Express che sostituisce un po' la figura del parente prossimo e ci spieghiamo meglio. Chiunque abbia ad esempio una difficoltà a raggiungere un ambulatorio medico, difficoltà a raggiungere la farmacia per il reperimento dei farmaci, solitamente si rivolge a un parente o a un conoscente, a chiunque abbia un po' di disponibilità e questi va, si reca dal medico per conto dell'anziano, del disabile, di colui che non è autosufficiente o comunque o anche chi non abbia tempo, prende la ricetta dal medico poi va in farmacia e acquista le medicine e va a casa dell'assistito. Ora tutto questo viene sostituito dalla figura di Far Express che con un servizio altamente qualificato nel pieno rispetto della privacy, del diritto di libera scelta della farmacia, fa questo per l'assistito o per chiunque abbia dei problemi. E tra l'altro per chi è necessario di questo servizio ovviamente si evita perché ci sono comunque delle persone sole che non possono contare su amici, su parenti, per cui veramente questo credo sia un servizio veramente importante. È un servizio altamente innovativo perché solleva l'anziano da una sorta di remora per esempio a dover disturbare qualche persona, così invece assistito da noi può avere il servizio completo dal reprimento della ricetta medica al farmaco direttamente a casa e non solo. Anziano e non solo perché magari ci sono persone impossibilitate a muoversi, anche giovani anche giovani, anche dei professionisti oppure dei commercianti che non abbiano il tempo per svolgere tutte queste attività possono rivolgersi a noi con una semplice telefonata di un numero verde che poi diremo, lo ricordiamo anche ora e lo ricordiamo anche dopo. Lo possiamo ricordare? 800-9133-06. Ok, ripetiamolo. 800-9133-06. Ecco, io so che a Cagliari già si stanno, insomma, abituando a questo servizio. Cagliari già attivo, sì, 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 e noi lo faremo conoscere a Sassari perché stiamo prendendo appunto, lo stiamo facendo conoscere agli enti istituzionali perché è giusto rapportarci con gli enti istituzionali che operano nell'ambito dei servizi sociali e nell'ambito sanitario e lo stiamo facendo contemporaneamente attraverso Telegi conoscere a tutti. E il servizio partirà ufficialmente? C'è una data? Non c'è una data precisa ma entro il mese di ottobre sarà completamente operativo e non si limiterà solo alla consegna dei farmaci ma via via verrà implementato con un servizio di infermieristica a domicilio, con servizi in convenzione, con studi di diagnostica, laboratorio analisi, quindi prelievi a domicilio, reperimento di documentazione e gestione della documentazione sanitaria e consegna presso il domicilio anche del referto delle analisi. Quindi un servizio a tutto tondo? A tutto tondo e ripeto nel pieno rispetto della normativa della privacy e del diritto di libera scelta della farmacia, il tutto naturalmente comprovato da contratti scritti e deleghe firmati. Bene, allora ricordiamo in chiusura il numero verde? Il nostro numero verde per Sassari è 800-913306. Ringraziamo il signor Angelo Pisano e buona fortuna per questa nuova attività, quindi un servizio in più per la nostra città e io invece saluto i nostri telespettatori che ci seguono attraverso la tv e naturalmente attraverso il sito. Buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.